mamma mamma sono di frettissima dove hai messo la camicia che stasera voglio uscire e voglio essere un figo ok essere o dover essere mamma il dubbio amletico dov'è la camicia mamma? dov'è la camicia? contemporaneo come l'uomo del neolitico mamma ma cosa stai dicendo? ma sei impazzita? nella tua gabbia 2x3 mettiti comodo mamma ma ti vuoi muovere che devi uscire con quella tipa che ho conosciuto sul web mamma su internet? tutti tuttologi col web si vabbè dai risposte facili ma risposte facili cosa mamma? che tu mi lavi la roba e magicamente sparisce la domanda è dove cazzo è la mia camicia? dilemmi inutili cosa si dice? ha 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 cercasi ma cercasi cose mamma che l'hai lavata tu la maglietta storie dal gran finale speraci ah ma devo pure sperare comunque vado a pantarei e si griderei ma cosa cazzo stai dicendo? lezione di nirvana c'è potenza in andiana per tutti un'ora d'aria di gloria la folla grida un mantra l'evoluzione inciampa la scimmia nuda palla occidentali scarma occidentali scarma lascia che pavolo attenti tu sei pazzo sta cazzo di camicia non è uscita io esco da solo non so cosa cazzo ho fatto di fare nella mia vita Grazie.